Ciao ragazzi, qui è Francesco Bellomo, eccoci qui collegati. Oggi in questo video voglio farvi vedere l'operazione sempre in late to back, in questo caso nel mercato dell'1.5 gol avanti. Dunque, prendendo in considerazione la gara del Valencia contro il Real Madrid, possiamo vedere che in realtà il Valencia ha una quota praticamente di... andiamo qua, ha una quota di 4.2 l'over 1.5, mentre l'over 0.5 in realtà ha una quota di 1.6, ok? Questa operazione tendenzialmente la si fa sempre quando si arriva intorno al 65esimo, 68esimo minuto. In questo caso i parametri sono molto interessanti per lavorarci. Noi siamo entrati da circa 20 secondi e già potete vedere che in questo momento stiamo battendo il 2%, 3%, in questo momento il 3% di quello che è stato il nostro investimento, già nell'immediato, ok? Una cosa fondamentale, in questa tipologia di operazione io entro sempre come uno short trade, dunque la mia idea in questo tipo di operazione è cercare di approfittare che il mercato si possa assestare nel tempo più lungo possibile e in questo tempo appunto andare a prendere quello che è il miglior mercato. In questo caso il miglior mercato che abbiamo la possibilità di prendere appunto è il lay to back in questo momento sull'over 1.5. Ovviamente l'operazione che noi facciamo porta nell'arco di 5-7 minuti ad avere sotto un introito interessante perché toccheremo facilmente gli 8, anche i 10 tick, no? Dunque cosa significa? Che se dovessimo rimanere all'interno del mercato per 5-7 minuti facilmente toccheremo gli 8-10 tick che molto probabilmente si riuscirà anche ad andare oltre. Dunque significa che siamo 1, 2, 3, 4, 5 in questo momento, 6, 7, 8, 9, 10. Dunque andiamo praticamente attorno al 5.2, 5.4 di quota se dovessimo rimanere altri 4 minuti, circa 5 minuti nel mercato in più, ok? Ovviamente questo dipende molto dalla gara perché questo obiettivo si può raggiungere anche un arco temporale molto molto più veloce, dunque si può raggiungere anche questa percentuale nell'arco di 3-4 minuti da quando si è entrato nel mercato. Infatti in questo momento noi siamo entrati, come potete vedere dal video, da pochissimo tempo e in realtà già stiamo battendo quasi il 16% di ritorno su quella che è la nostra operazione. Ovviamente questa tipologia di operazioni quando si fanno? Si fanno innanzitutto quando vedete la gara, si fanno innanzitutto quando la gara ha un mercato che non è in equilibrio e questi parametri io comunque li spiego all'interno dei miei corsi avanzati e se vi volete prequalificare, chiamiamoli così, per vedere se potete essere scelti per partecipare a questi percorsi all'interno della descrizione di questo video da qualche parte ci sarà il link in modo tale che voi potete compilare un questionario e poi il mio team, il team dei miei coach sarà lì a valutare quella che è la vostra scheda, dopodiché se saremo interessati a chiamarvi perché riterremo opportuno fare un lavoro su di voi, lo faremo. Ora, una cosa molto interessante che voglio dirvi è in essenza questo, si fa questa tipologia di operazione, si porta a casa un ottimo ritorno su quella che è l'operazione, come potete vedere in questo momento stiamo battendo quasi il 25% e la domanda che viene fatta tendenzialmente è questa ma Francesco, in caso di gol contro che cosa accade? In caso di gol contro noi ci assumiamo il loss anche perché non è importante prendere il gol contro è importante quante volte si prende il gol contro e con che razio alla fine in termini di gain-loss lo si prende contro, ok? Questo è uno step molto molto importante. Dunque vi invito vivamente a vedere questo video, a crearvi dei file Excel, a farvi le vostre tabelle perché penso che è molto molto importante che uno di voi possa in realtà raggiungere questi obiettivi e rendersi conto in realtà di quello che si fa e penso che questo è fondamentale. Ora noi usciremo da questa posizione, chiuderemo con circa un 27% di ritorno, anzi siamo andati quasi al 29%, ottima operazione. Niente, dunque abbiamo chiuso al 29%, nell'arco realmente di pochissimo tempo, 5 minuti circa e dunque questo è un 30% di ritorno sullo stake nell'arco di 5 minuti circa. Ovviamente questa tipologia di operazione, come vi ripeto più volte, ci sono diversi parametri che mi hanno visti però in realtà ognuno di voi può cercare di prenderla in considerazione, di valutare, di vedere quello che accade durante la gara perché in realtà diventa interessante cercare di farla e può diventare sicuramente interessante cercare di poter avere dalla sua parte un'operazione importante come questa. Dunque oggi, velocemente e brevemente, ho deciso di registrare questo brevissimo video. Niente, mi auguro che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come sempre, commentate e condividete. Ricordatevi che il mio obiettivo è quello di aiutare le persone a far accadere le cose nella propria realtà, dunque a creare la propria realtà, a realizzare i propri desideri come prima mission e anche quella di aiutare più persone possibili a poter avere la possibilità di creare più entrate ricorrenti attraverso un mezzo che ormai utilizza tantissimo tempo che è quello del betting e dello sports trading. Dunque se siete interessati a una delle due cose o a entrambe, vi consiglio vivamente di continuare a seguirmi e come vi ho detto, magari da qualche parte nella descrizione di questo video ci sarà il link per potervi candidare in realtà a far parte di qualche mio percorso o di qualche mio programma di coaching, ok? Il resto delle news, delle novità è inutile, magari che mandate tantissime mail perché ne riceviamo davvero tante, tante, tante di richieste, di eventi, in questo momento non ci sono situazioni già consolidate, potrà essere, dunque può essere che magari nel breve termine ci sarà qualche news, però in questo momento vi prego di non inondare i miei collaboratori di email perché le iscrizioni ai miei programmi sono chiusi, le iscrizioni ai miei programmi di coaching avanzati sono chiusi e ovviamente quello che sto facendo è condividere con voi questi video gratuiti e soprattutto poi avere la possibilità di farvi capire, no? di mettervi nelle condizioni di poter capire e razionalizzare ovviamente le diverse tipologie di azioni che abbiamo fatto. È ovvio che in questo momento noi eravamo già usciti dal mercato perché siamo stati molto molto disciplinati e saremmo comunque usciti a priori anche perché negli ultimi due minuti la gara aveva assunto in realtà dei ritmi più alti come lo potete vedere da qui, no? Ma magari chi aveva la possibilità di vedere la gara l'aveva capito dunque eravamo in una posizione di EV non più positivo e in quel caso si esce dal mercato. Comunque a parte tutto in caso di gol contro noi abbiamo fatto una bancata e in questo momento la quota si sarebbe settata intorno ai 2.20, 2.22 dunque il nostro real reliability sarebbe stato in realtà di circa un point, di circa una steccata che comunque poi a distanza già di 2, 3, 4 minuti nel momento in cui uno decide di rimanere nella posizione aperta si va completamente a diminuire già ad abbattere già di un 5, 7, 8, 10 per cento ma nella nostra situazione quello che si fa appena si prende un gol contro si esce dunque nel momento in cui questo gol sarebbe arrivato durante la nostra operatività noi saremmo usciti, ci saremmo assunto un loss di circa un point e saremmo stati iperfelici, ok? Perché? Perché il razio di questa tipologia di operazioni su 100 gare state tranquilli e certi che la percentuale con la quale, grazie alla quale porterete soldi a casa sarà molto più importante rispetto a quella di quando in realtà prenderete un gol contro, ok? Ovviamente questo non si fa a caso, bisogna avere dei keep record, bisogna tracciarvi le operazioni metterle al record e soprattutto poi bisogna essere molto disciplinati ed avere una corretta programmazione mentale ed emotiva affinché magari la vostra mente vi dice una cosa e magari poi il vostro corpo non ne faccia un'altra, ok? Qui è Francesco Bellomo, ci aggiorniamo al prossimo video se vi è piaciuto nuovamente iscrivetevi, commentatevi, mettete un mi piace e ci aggiorniamo prossimamente Ciao guys!